Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'intervista speciale, il format di Rete Sole. Do subito il benvenuto all'ospite che è venuto qui nei nostri studi, Massimiliano Morelli. Ben trovato e grazie per essere qui. Grazie a voi per l'invito, grazie per avermi dato l'opportunità di parlare dell'argomento del quale tratteremo oggi. Massimiliano Morelli, per chi non lo sapesse, giornalista ma anche scrittore. A proposito della sua attività di scrittore, nel mese di aprile del 2021 di quest'anno è stato dato alle stampe il libro dal titolo In cammino con Emiliano, il percorso verso Santiago nel ricordo di un figlio che avrebbe dovuto viaggiare con il padre. All'interno di questo volume, pubblicato per conto di Arancia Publishing, si parla di Emiliano Morelli, Il suo figlio è scomparso, se non ricordo male, nel 2018, giusto? Esatto. Tre anni fa. Allora, prima di conoscere i contenuti del testo vorrei chiedere innanzitutto come è nata l'esigenza di dedicarsi ad un'opera certamente non semplice da sviluppare per il dolore che avrà sicuramente comportato un evento simile. Scrivo tanto, mi piace scrivere. Fra le tante cose scrivo libri, purtroppo per chi li legge, per chi si avvicina al banco della libreria ad acquistarli, per chi va su Amazon o su IBS ad acquistarli in maniera virtuale, ma a leggerli in maniera non cartacea. Il libro di Emiliano nasce da un'esigenza particolare, quella di voler tenere in vita un ragazzo di 23 anni e mezzo morto, come hai detto te, tre anni fa, nell'aprile del 2018, in maniera assurda. Nella serie papà la mattina mi saluta, dice vado al banco, Matt, ci vediamo tra poco e non torno più a casa. Arresto cardiaco ed è un qualcosa che ti colpisce perché a 23 anni puoi morire con un incidente stradale, se sei un toxicodipendente muori per un'overdosa, se stai in banca pensi che sia stata una rapina, un colpo di pistola, niente. Arresto perdevo in qualcosa che se pensi all'età che aveva è quasi impensabile. Si dice che ci sia un caso ogni due milioni e mezzo, fra le altre cose, fra le tante cose che faceva. Tante volte mi chiedevo dove trovasse il tempo per fare tante cose. Era anche allenatore di una squadra di calcio, quindi un paio di mesi prima mi ha fatto la visita medico-sportiva agonistica della serie, se vai bene per loro vai bene per tutto. E chi lo visitava mi disse, questo è una roccia, ci ammazza tutti quanti. Detto proprio alla romana, detto da un primario di famola, comunque molto romanesco, in maniera molto romanesca che esternò questa frase. L'idea è quella di tenere in qualche maniera in vita perlomeno il ricordo di questo ragazzo. Immagino siano stati fatti poi degli accertamenti per capire esattamente le cause del decesso. Che cosa siete riusciti a capire? Arresto cardiaco. Il medico che non ha voluto neanche fare l'autopsia, ha detto che non c'è assolutamente bisogno, ha spiegato che è un qualcosa che se prende una persona che ha scavalcato gli anta è come se si staccasse la spina e quindi hai modo di rinfilarla dentro la presa e se accade sotto i trenta la botta è talmente forte che è come se si tagliassero i figli e non c'è modo di riannudarli. Capisco. Lui non aveva avuto sintomi, immagino? No, nella maniera più assoluta. Ragazzo, come ripeto, tante volte noi avevamo un service televisivo, fra le tante cose che facevamo io ero diventato il ragazzetto di bottega, da principale ero diventato ragazzetto di bottega e lui era diventato il principale, però nonostante questo era lui che si incollava le telecamere, che si incollava il materiale, che si prendeva le responsabilità, quindi diciamo un cuore perfetto fino a quel momento. Si riesce effettivamente a superare la scomparsa di un figlio, immaginiamo il dolore più grande per chi ha la fortuna di diventare genitore? No, perché ancora oggi, e sono passati solo tre anni, quando guardo alla destra in macchina mi immagino ancora di vedere lui, no, perché quando bussi alla porta della sua camera lo fai in maniera stupida, pur sapendo che non ci sia nessuno a risponderti, no, perché spesso e volentieri ti trovi a parlare da solo e fai delle domande come se le stessi facendo a lui, quello che è accaduto ad esempio nel cammino verso Santiago di Compostela. Ecco, a proposito, parliamo adesso più nello specifico di questo libro, che l'abbiamo detto è uscito da poco, come se vince dal lungo sottotitolo. Questo libro rappresenta il viaggio verso Santiago di Compostela in Spagna, che lei avrebbe dovuto fare con il suo figlio. Ci diamo del tuo, fra colleghi. Va bene, ci diamo del tuo Massimiliano, va benissimo. Dicevo appunto, il sottotitolo di questo libro rappresenta questo viaggio verso Santiago di Compostela e in pratica il racconto oscilla tra il racconto di questo cammino e parallelamente i ricordi dei momenti vissuti in famiglia, vissuti nel privato. Come si spiega l'idea di strutturare in questo modo l'opera? Perché il viaggio verso Santiago di Compostela l'avevamo progettato qualche mese prima che lui passasse, come dicono purtroppo quelli bravi, a miglior vita. Nel senso che avevamo avuto l'idea di andare a Santiago, fra le altre cose, portando anche il fratello, che dei tre era il più allenato, perché il fratello portiere di una squadra di calcio, fissato con gli allenamenti, sei allenamenti a settimana, e se la domenica non gioca diventa una tragedia. Però lui era stato chiaro, io non vengo, noi avevamo pensato bene di fare questo cammino, addirittura partendo da Non ci sballe, quindi dal punto più lontano. Morto Emiliano l'idea non è che si era assopita, ma tante volte dicevo, ma chi me lo fa fare sarebbe brutto ricordare qualcosa che avremmo voluto fare insieme. Invece giorno dopo giorno è cresciuta l'idea di andare a fare questo viaggio. Fermo restando, io sono partito il 9 febbraio dello scorso anno, scusate, sono partito il 10 febbraio dello scorso anno, ma il 9 febbraio io ancora non avevo deciso di partire. Nel senso è stata una decisione presa all'ultimo momento, una telefonata, c'è un biglietto aereo per arrivare a Oporto, sono partito da Oporto, in totale ho fatto 270 chilometri. Sì, c'è il biglietto aereo, sono partito, sceso dall'aereo, sono andato direttamente verso Santiago. La cosa strana è che il cammino verso Santiago di Compostela lo fanno in tanti, ma uno come me che è disabituato a camminare, che non vuole camminare, che odia camminare, che se deve portare a spasso il cane prende la macchina, tira giù il finestrino, il cane a spasso al guinzaglio, oppure se deve andare al supermercato all'angolo prende in ogni caso sempre la macchina. Per uno come me per correre 270 chilometri in 11 giorni non so cosa mi abbia spinto e se ci ripenso oggi a dire che ho fatto tutto quel tragetto, dico ma forse non ero io perché è un qualcosa che ti fa capire quanto valga più la testa della forza fisica che tu puoi avere. Tanta gente mi ha detto che non ce la farai, è difficile, è un problema. Invece sono andato spedito come non mai, fermo restando e una volta tornato in Italia a fare 100 metri, mi è ricominciato a pesare di nuovo. Chissà come mai, sembra ci sia quasi un allone spirituale. Sì, sì, sicuramente, ma spesso e volentieri durante il cammino io forse è una cosa da dire che può sembrare romantico, in realtà io mi sono trovato a parlare da solo, ad avere la sensazione di avere risposte da parte sua, quindi ti faccio un esempio che farà sorridere sul tracciato per andare verso Santiago, e ci sono dei punti di ristoro, c'è un cartello che ti annuncia fra 3 km c'è un punto di ristoro, fra 5 km, quindi trovo quasi al confine fra il Portogallo e la Spagna, trovo un cartello che annuncia fra 3 km un punto di ristoro, col telefonino ti aiuti a guardare quando arrivano i 3 km, passano i 3 km e tu trovi un altro cartello, fra 3 km un punto di ristoro, quindi o era sparito il punto di ristoro di 3 km, forse il cartello precedente era sbagliato, quindi fra 6 km il punto di ristoro. Io mi sono ritrovato a parlare da solo con il cartello e mi prendevo in giro, mi avete rotto le scatole, non è possibile, mi avete annunciato il punto di ristoro, io ho sete, io ho fame, io voglio piangere e c'è stato come un... la vera sensazione che ci fosse lui era quella che ci avevo spesso e volentieri quando lavoravamo in coppia, con lui che mi dava una spintarella e che mi diceva papà a far serio per una volta, perché dei due la cosa assurda è che il serio era lui e l'ironico, il giullare di corte, quello che strappava sempre un sorriso, ero io, quindi ho avuto questa impressione della spintarella, sono andato avanti, dopo 3 km ancora c'era comunque il punto di ristoro. E in questo libro che tipo di ritratto emerge di Emiliano? Almeno secondo chi l'ha scritto questo libro? Qua è come dire all'oste se il proprio vino è buono, nel senso che è ovvio, è tuo figlio e quindi hai un occhio particolare, però tante volte mi sono detto sai quando ti nasce un figlio pensi sempre che lui possa somigliarti in qualche maniera. Lui non solo mi somigliava, ma era più bello, più alto di me, più intelligente, a maturità aveva preso più di me, lui all'università puntava a un voto massimo della laurea, io non ci sono arrivato al voto massimo, ogni cosa che faceva lo faceva bene. La cosa assurda era che, ad esempio era bravissimo nei montaggi, ogni volta che faceva un montaggio io lo controllavo e diceva ottimo lavoro, e lui mi diceva non sono soddisfatto. E questo era un po' Emiliano, quello che non era mai soddisfatto del suo lavoro, che cercava quella perfezione che spesso e volentieri, specie nel nostro lavoro, è difficile da raggiungere, e se la raggiunge non c'è mai il telespettatore, o il navigatore della rete che se ne rende conto. Se in questa intervista che stiamo facendo, in regia, sbagliano i colori, sbagliano l'audio, se ne accorgono gli addetti ai lavori, a casa non se ne accorge nessuno, o se ne accorgono in pochi. E questo è il discorso, lui cercava quel tipo di perfezione che poi è davvero raggiungibile. Lui per la giovanità aveva già deciso comunque di intraprendere la carriera legata comunque all'ambito del montaggio, quindi il lavoro... Lui fra le altre cose sarebbe dovuto partire, lui è morto ad aprile e a settembre, sarebbe dovuto partire per Liverpool, dove ha trovato un lavoro come montatore. Liverpool era il suo sogno da sempre, da un viaggio che facemmo insieme al fratello, un viaggio perché era la città dei Beatles, lui si era innamorato di Liverpool al punto che tifava per il Liverpool, che ogni volta che aveva l'opportunità di andarsene due o tre giorni da qualche parte andava a Liverpool e c'è il famoso inno dei tifosi del Liverpool, quella di You'll never walk alone, non ti lasceremo mai solo, che compare bene o male, compare sul libro, compare su una lapide, a un campo di calcio che gli hanno dedicato. quella frase è un po' che unisce gli amici e i familiari di Emiliano. Com'è stato il processo di scrittura di questo lavoro? La scrittura è stata fluida, la lavorazione è andata un po' a fasi, o è stato un lavoro abbastanza migliore? Ho scritto di pancia cercando di mettermi anche nei panni del lettore, perché non volevo fare un libro troppo smielato, troppo legato al sentimento, volevo fare un libro in qualche maniera asettico, anche se è scritto da un papà che parla di un figlio, quindi diventa difficile fare un qualcosa di distaccato, di asettico, però cercavo di mettermi anche nei panni del lettore, volevo che il lettore conoscesse Emiliano, nel senso quello è il biglietto da visita di Emiliano, non lo racconto io, ma viene raccontato in quel libro. Raccontare alcuni episodi del privato, che cosa ha rappresentato mentre il libro pian piano prendeva forma? Una soddisfazione non personale, ma una soddisfazione per le persone legate a Emiliano, quindi parlo della mamma, parlo del fratello, parlo della nonna, parlo degli zii, di persone che, e io ne sono accorto dopo, perché in realtà non te ne accorgi subito, a parte la mamma e il fratello, ma in realtà io non avrei mai pensato che gli zii potessero essere così attaccati a un nipote, e lo scopri dopo, quando ti rendi conto che il dolore tuo non è paragonabile a quello di uno zio o di una zia, però soffrono in maniera assurda anche loro, nel senso se muore una persona diretta della tua famiglia, tu il dolore lo senti, senti la botta forte, se muore un cugino, un nipote dice sì, è morto, ma è di quell'altra famiglia. Qua ti rendi conto che Emiliano, che fra le altre cose, era il trade union di tutti quanti, era il gancio, era la persona che riusciva a raccordare tutti, quello che aveva la battuta ironica al momento giusto, quello che nel momento delle discussioni riusciva a calmare gli animi, ed è stato un qualcosa che mi ha colpito scoprire dopo la sua scomparsa quello che rappresentava per gli altri. Per gli altri all'inizio puoi pensare quando è in vita è un nipote, gli si vuole bene a prescindere, no? Era qualcosa di più. Capisco. Ci avviamo verso la conclusione di questa chiacchierata, un altro paio di domande prima di salutarci. La prima è questa qui. Cosa ti auguri possa lasciare nel lettore questo libro? Io l'ho detto questa domanda, già me l'hanno fatta, l'ho detto e mi piace ripeterlo, io vorrei che questo libro lo leggessero quei papà e quelle mamme e anche quei figli che hanno modo di litigare durante l'arco della giornata e che magari hai visto quando si sbatte la porta, basta me ne vado da casa oppure vattene da casa a seconda se sia il figlio o un genitore a dirlo. Ecco, capire che quell'uscita da casa può essere l'ultima uscita da casa che potrebbero non essercene più. Lui è uscito da casa che stavamo col serioso sulle labbra, papà va dal banco, ci vediamo tra poco, ok va bene vengo con te, no non vieni con me, ci vediamo tra poco, dieci minuti e ritorno a casa e quel ritorno non c'è più stato. Quindi immaginati se ci fosse stata una discussione prima di quella. Ti faccio questo piccolo esempio, io mi reputo un papà sfortunato, ma poi ho scoperto che ci sono persone che hanno vissuto la mia stessa tragedia e sono state più sfortunate di me. Chi ad esempio ha avuto un figlio che era malato di leucemia e la leucemia se l'è portata per 4-5 anni, allora ragioni sul fatto che quel figlio è stato 4-5 anni ogni mattina che si alzava aveva l'incubo che quello potesse essere il suo stesso, il suo ultimo giorno. O ancora peggio, un ex compagno di classe che una sera mi dice anche mio nipote è morto, allora sai, spesso e volentieri quando dici mi è morto qualcuno, c'è qualcuno che cerca di colmare la tua assenza dicendo ma sai anche a me è morto questo. Però quando mi ha detto come è morto il nipote che si è suicidato senza neanche lasciare un biglietto ai genitori, allora là dici ho un problema di meno rispetto a questa morte. Capisco, ultimissima domanda. Documentandomi su questo libro e anche su quanto è accaduto ad Emiliano, mi è venuta in mente un po' la tragedia che ha colpito un personaggio del mondo dello spettacolo in realtà della musica ovvero Niccolò Fabbi che molti forse lo sapranno nel 2010 perse sua figlia che aveva appena due anni Olivia morta a causa di una leucemia fulminante di una meningite fulminante e c'è una canzone di Niccolò Fabbi che si intitola Solo un uomo che ha un verso finale secondo me molto forte dove dice la gioia come il dolore si deve conservare si deve trasformare. Sei d'accordo che il dolore si debba trasformare soprattutto se non te si può trasformare? Certo che sì è una frase che conoscevo che mi ha colpito ovviamente vedi ad esempio il raffronto tu non sai se da padre devi essere non puoi essere contento della morte di un figlio però non sai se ragionare come il fatto che Niccolò sia stato più fortunato rispetto a me che sua figlia l'ha vissuto soltanto due anni e io l'ho vissuto 23 anni oppure se lui sia stato più sfortunato di me perché lui non ha avuto l'opportunità di godere certe gioie che ho goduto io io quello che dico sempre è che è una frase detta e ridetta che sui social campeggiano in ogni dove però è una frase che mi rispecchia molto non piango per quello che ho perso ma gioisco per quello che ho avuto chiarissimo è terminato purtroppo il tempo a nostra disposizione ti ringrazio ancora tanto grazie a voi per questa bella chiacchierata e ti auguro tutto il meglio soprattutto buon lavoro viste le tante cose che porti avanti quotidianamente grazie ancora Massimiliano Morelli abbiamo detto in apertura giornalista e scrittore ma ricordiamo anche il titolo di questa sua ultima pubblicazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa nuova puntata dell'intervista speciale in cammino con Emiliano molto importante anche il sottotitolo vado a rileggere il percorso verso Santiago nel ricordo di un figlio che avrebbe dovuto viaggiare con il padre il libro è fuori dal mese di aprile detto questo ancora grazie grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento con la programmazione di Rete Sole arrivederci grazie a tutti